I ma ragazze spettate non avete idea ma che cosa ho fatto? qualleyci 6 secondi Stai di sotto, di sotto 2 e c'è la porta principale aperta 10 secondi e via E' quella scotata rotta WHAAAA Fatto mancio, c'è un po' con l'esco C'è un po' con l'esco No, 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 no Che cazzo è Il nemico sta prendendo il contenitore Missione fallita C'è un po' con l'esco Ho fatto solo l'esco Segnalatelo A me ragazzi Si è girato Ragazzi a me come si è girato Fai conto, gli ho sparato un colpo Era girato di schiera, si è girato E ha mirato Mentre si gira tipo qui, scopo diciamo Ma mi ha sparato direttamente in testa No ragazzi È tutta colpa di termizzi Trovate il contenitore di biorisco Eh giusto, giusto, giusto Eh no ragazzi Però vabbè, quello lì è troppo esagerato Guardate qua Valkyrie Bel fatto Il contenitore di biorischio è stato individuato Il problema è di avere un lavoro 10 secondi all'inserimento Ancora 5 secondi Io non sto sempre attaccato Contenitore di biorischio individuato Ma è giusto, che cazzo fai? Vincere il documento mondiale? Copritemi, ricarico! La telecamera Sì, sì, vai tranquillo Io tengo mirato sopra la testa Tengo mirato sopra la testa Ti cerchi di stare sempre basso Aspetta, butto il drone Aspetta che butto il drone Non andare di fretta E c'è qualcuno sopra le scale Eh lo so però Il problema è che io non l'ho visto C'è uno sopra C'è uno super le scale C'è Valkyrie Carica da irruzione innescata Facciamo un bel muro in cartogesso Bello c'è Facciamo fischiare qualche orecchio C'è uno super le scale Arribalo innescata Dai vai Dai vai Dai vai Ho fatto fuori l'hack Non è che mi sento le roba Come cazzo mi ha fatto fuori? Difendete la stanza e proteggete il contenitore Difensori eliminati, missione d'attacco riuscita Ok Trovate il contenitore di bioristio Sì sono nell'ultimo piano Ben fatto, il contenitore di bioristio è stato individuato 10 secondi all'inserimento 5 secondi all'inserimento Contenitore di bioristio individuato Raggiungetelo Cambio caricatore Ma staggia un attimo che me stavo prendendo le cuffie Poi che vado su io la rompa Madonna, blitz, quanto corso Deve prestare 2 secondi Eh sto rimando Aspetta 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 Vai T'ho mandato un drone dentro Allora sono in due sono in due là dietro dove dici tu tornate a occuparvi del contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia no eh preso anch'io da cazzo è andato oh merda monte fai il giro e vieni a rianimarmi salta dove sono io salta proprio da me non salta perché salta da me e prova a rianimarmi e te invece l'altro a terra dimmi se stanno arrivando ragazzi rianimatemi saltati da me rianimatemi di medico non ti muovere bravo 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 bravissima bravissima capri la rianima cazzo è questo difendete la stanza e proteggete il contenitore ultimo attaccante rimasto in vita al culo difensori neutralizzati vittoria per gli attaccanti che c'è la storia no ragazzi si parlando siccome ci penso mi scoppio a ridere la morte che c'è la morte che c'è la morte che c'è la morte che hai fatto te con blitz che c'era sia il valkyrie... si vede che ti hanno lanciato in T4 con c'è lo scudo in canos cielo Mamma mia siamo a 10 secondi ancora 5 secondi il drone nemico ha individuato il contenitore di rischio le botole le botole c'è la botola di sopra non l'avete barricata aspetta 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 grazie porta bloccata stanno sparando qua e dove sono io attivo il sensore una madonna occhio sono qua da me ah 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 pulso sono qua da me si occhio 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 detta qua da me ricarico qua qua esplode un muro no asce c'è la c'è quella ptana di asce c'è quella ptana è caricato che era di lì però io dico quel cazzo di asce è proprio nervoso guarda c'è la telecamera piazzata sulle scale sono qua sono qua ultimo nemico rimasto mamma io non ho un caricatore bravo basta è morto esce oh diomodo stai a rita una pacchetta non ti muovi sono sopra Sensore attivato Vittoria alla difesa, nemici eliminati Sì, adesso è arrivato secondo, 10, 3, 4 Forse è arrivato ad oro Può vedere se credete voi sono ad oro Sì, oro 1